Grazie, grazie Presidente. Vede, Presidente, il vero dato politico del dibattito odierno è che l'immigrazione sta tornando ad essere, torna a essere in questo Parlamento di moda, la soluzione dell'immigrazione e dell'invasione. Perché questa mozione nasce dal fatto che la Lega nove mesi fa presentò alla Presidenza, chiaramente non a lei o all'altra Presidente, una mozione che diceva chiaro e tondo che il Governo stava sfasciando il Paese attraverso un'invasione incontrollata. Dopo nove mesi, dopo aver mandato da quella casa un Ministro incapace che proprio per le sue incapacità è stato rimosso ed è stato promosso, in Italia è tipico, quando uno non è capace a fare il suo lavoro lo si promuove per togliere solo dalle scatole. Proprio quando anche non c'è più il Presidente del Consiglio che ha promosso tutte queste inefficienze nel campo dell'immigrazione, in una situazione che è completamente cambiata, ha cambiato il mondo, ha vinto la Brexit, ha vinto Trump, non c'è più quella voglia di globalizzazione, stanno tornando i confini, stanno tornando l'identità, stanno tornando quei sentimenti di sovranità, di identità soprattutto. E quindi tutto l'arco costituzionale si converte al leghismo, si converte a tutte le politiche che la Lega da sola, in solitaria, è criticata da tutti, ha portato avanti da anni, ci avete dato dei radici, ci avete insultato come dei cani e oggi il Partito Democratico viene, forse con Miniti, che sarebbe stato interessante averlo qui nel dibattito del plenum della Camera, non in una commissione forse quasi segreta, portare qui dove venire Miniti ad ascoltare il dibattito sull'immigrazione. Il Partito Democratico viene qui e propone quasi le stesse soluzioni che la Lega da sola, da sempre, ha portato in dote al Paese. Le espulsioni, subito, immediate, però voi avete tolto 90 milioni dal fondo Rimpatria e l'avete messo nel fondo Accoglienza, ma l'avete fatto voi con il voto probabilmente anche degli amici di Forza Italia che fortunatamente pian pianino stanno ritornando sulle posizioni del Governo Berlusconi, quando però il Ministro che teneva la politica dell'immigrazione era della Lega, il Ministro Maroni. Quando c'eravamo noi al Governo, dalle 37 mila sbarchi del Governo Pro di 2008 scesero con gli accordi e con i respingimenti e soprattutto con quel sentimento politico che faceva sì che gli scafisti avevano il terrore di fare gli scafisti. Non c'era il Tantan venite in Italia perché si sta bene, vi diamo 35 euro al giorno, telefonino, vitto, alloggio e probabilmente anche altre cose alla sera. 9.500 sbarchi con Maroni nel 2009, 4.400 nel 2010. Con voi sono aumentate esponenzialmente, 160.000 nel 2014, 170.000 nel 2015, 181.000 nel 2016, in tre anni 550.000 arrivi, dei quali solo il 5% ottiene lo Stato di rifugiato. Poi ovviamente tutti gli altri, quella che ha voluto Prodi, l'umanitaria. Solo i fessi italiani hanno dato l'umanitaria a chi viene qua a prenderci in giro perché sono migranti economici e non sono altro che clandestini. Caro sottosegretario, voi date il diritto di rimanere sul nostro territorio e quindi in Europa e alla loro famiglia dei clandestini a tutti coloro che entrano illegalmente in Italia, entrano illegalmente nel nostro territorio, tanto che chi ottiene lo status di rifugiato sono solo 15.000 unità pari al 3% di chi richiede. Perché poi qua tutti parlano di numeri, parlano di accoglienza caritatevole. Sta di fatto che delle 550.000 persone che arrivano, solo 290.000 chiedono il riconoscimento dello status. Quindi ne mancano già 260.000 all'appello che nessuno sa dove siano andati a finire. Nessuno sa dove siano andati a finire queste persone. E all'interno punto di tutti questi sbarchi, chi abbiamo? Abbiamo l'Aguzzino Somalo che stuprava all'interno di quella specie di lager in Libia. Abbiamo terroristi, abbiamo delinquenti, abbiamo tutta gente che faranno uscire dalle loro carche e ce le mandano qui. Andate là che tanto lì addirittura vi fanno fare ricongiungimento familiare attraverso l'opzione dell'umanitario. Noi vi chiediamo fortemente di cancellare come legge, perché solo l'Italia ha questa particolarità. Gli altri hanno il diritto d'asilo, la sussidiaria e noi pure l'umanitaria, perché ovviamente paga pantalone e siamo tutti più buoni. I CIE, avete detto sempre che erano dei campi di concentramento. Adesso li proponete voi, fortunatamente, perché non sono né dei campi di concentramento, ma sono effettivamente la via maestra per le espulsioni. È chiaro che però dovete portare di nuovo la permanenza nei CIE dai 90 giorni ai tre mesi, ai 18 mesi di quando c'eravamo noi al Governo, perché altrimenti fra la burocrazia tipica italiana, non padana, italiana, tipica, di allungare il brodo per farli poi rimanere sul territorio, fa sì che i tre mesi non sono sufficienti e pertanto questi rimarrano sul nostro territorio perché non possono essere espulsi. Così voi avete quindi fatto nel 2005 il decreto legislativo 142, che avete portato quindi l'accoglienza dai CIE ai casti, ai centri di accoglienza straordinari, nel quale hanno fienato le cooperative, hanno fienato le cooperative rosse, le cooperative bianche, tutte caritatevoli. Sta di fatto però che si intascono 3 miliardi all'anno di fondi pubblici e non mettiamo i soldi per la povertà nazionale, per i nostri cittadini che non hanno la possibilità di un sussidio, non hanno la possibilità di aiuto, tanto che il disegno di legge sulla povertà di cui abbiamo dibattuto fortemente in quest'Aula è fermo da un anno e mezzo al Senato perché voi dei poveri italiani ve ne fregate totalmente. Centri di accoglienza straordinari, dicevo, che fanno dei bandi, partecipano ai bandi delle prefetture. Basta dare ai prefetti a questa burocrazia pelosa alla gestione dell'immigrazione. Devono prendere in mano gli eletti, in modo tale che se sbagliano vengono mandati a casa, non dei prefetti che per risolvere il loro problema interno burocratico di subordinazione al Ministro vanno a sequestrare i beni pubblici e mettono gli immigrati nelle proprietà private senza il consenso dei proprietari. Questo è un esproprio che voi e lei, sottosegretario, oggi farà votare a quest'Aula, perché noi chiediamo alla nostra mozione di evitare l'esproprio dei beni immobili privati. E lei questo non lo accetta. Lei questo non lo accetta perché implicitamente il piano minito sull'immigrazione prevederà l'esproprio dei beni privati. E questa è la discriminante vera fra la nostra mozione e tutte quelle pagliacciate che dite voi. Pagliacciate perché non siete credibili, perché sono tre anni che dite, fate e votate l'esatto contrario di quello che proponete oggi con le vostre mozioni. Tutti, dai 5 Stelle, al Partito Democratico, in parte a Forza Italia. Gli unici coerenti sono quelli di SEL, ex SEL, sinistra. Loro sono i coerenti. Sono a favore del mondialismo, della globalizzazione delle persone. Loro sono favorevoli. Loro erano stati e lo sono anche oggi con le mozioni. Non condividiamo, ma almeno la coerenza la premiamo e la sottolineiamo. Quindi avete portato a un'invasione. Lei parla di straordinarietà. Ma cosa c'è di più straordinario di avere un Mediterraneo che oramai, purtroppo, è davvero un cimitero, il più grande cimitero dell'Occidente? Voi i controlli li dovete fare dall'altra parte del Mediterraneo, non sulle nostre coste. Gli hotspot devono essere fatti nel Nord Africa. Quando il Governo va a chiedere aiuto attraverso gli accordi internazionali agli Stati del Nord Africa, non deve solo chiedere il respingimento e la possibilità di fare l'espatrio, ma deve chiedere di fare là, assieme alla Comunità europea, i controlli e le richieste d'asilo. Così qua arrivano solo quelli che ne hanno diritto e quindi tutti i migranti economici se ne ritornano a casa loro e, al massimo, l'Unione europea dovrà aiutarli, ma a casa loro, non qua sul nostro territorio, che tra l'altro l'Unione europea proprio non li aiuta, perché tutti i fondi che il Paese mette sono tutti fondi che provengono dalle tasse dei cittadini italiani. Quindi una difesa dei confini che deve tornare, non possiamo utilizzare la nostra marina per andare a prenderci o farci invadere. È un'assurdità che neanche un pazzo potrebbe creare, neanche in un film di fantascienza sarebbe mai stato previsto che l'esercito di un Paese venisse utilizzato per far invadere il Paese a cui questo si riferisce. E quindi il grado di giudizio, quando lo diceva la Lega, un grado di giudizio contro i rispingimenti di asilo, lo diceva la Lega, era impossibile. Adesso lo dice il Partito Democratico e va bene. Gli LSU, questo è un'altra grande differenza. Voi utilizzate questa che è uno specchietto per la Lodol, per tutta la gente incazzata, mi scusi Presidente, per vedere tutte queste persone che erano per strada senza far nulla. Allora il Governo dice vabbè, gli facciamo fare un po' di lavoro socialmente utile, togliendolo di fatto ai nostri concittadini che sono indigenti, quei lavori socialmente utili, prima agli italiani, prima ai padani e dopo a chi è che arriva, perché questo significa sostanzialmente il cavallo di trove per dare all'umanitario, perché era una nuova invasione legalizzata e poi ovviamente, come capita da sempre, ogni LSU dovrà essere stabilizzato e pertanto sarà assunto. Quindi una netta e chiara differenza sostanziale fra chi come la Lega Nord da sempre coerente con la prepidee contro un'immigrazione che è un'invasione e contro la clandestinità, non contro i veri rifugiati e invece qui un teatrino della politica che per saltare sul carro dei vincitori, che è quel carro di Trump, che è il carro di coloro che vogliono la difesa dei confini, ecco che si appellano a questo sentimento diffuso di difesa dalle nostre identità e fanno delle emozioni che noi le troviamo ridicole proprio perché vengono da persone che non sono dimostrate affidabili. Grazie.